L'ecomostro sta per dire addio alla storica real cittadella. Le fasi di demolizione dell'inceneritore di San Raineri, che si innalza oscurando il magnifico panorama della zona falcata, saranno intraprese il prossimo lunedì 7 novembre. Il lungo percorso, che conduce alla riqualificazione di quell'area da valorizzare, è stato battuto da troppi intralci burocratici. L'opera è stata realizzata negli anni 80, quando ancora non esisteva il vincolo di tutela rispetto al patrimonio storico-culturale della zona falcata e della fortificazione seicentesca spagnola. Ad aggiudicarsi l'appalto da 411 mila euro è stata la ditta Messina Sud SRL, che inizierà il delicato intervento distruggendo la struttura dall'alto verso il basso, cercando anche di recuperare i materiali. Laddove questi non si potessero riciclare, verranno smaltiti in discariche speciali. Si parla di grossi ammassi di cemento, acciaio e ferro, equiparabile a uno stabile di quattro piani, oltre a forni e impianti di lavaggio. Il contratto è stato siglato una settimana fa a Palermo con l'assessorato ai servizi di pubblica utilità. A dirigere i lavori è l'architetto nominato dalla regione siciliana Salvatore Carbone. La preoccupazione del Consiglio Comunale di Messina è che il governo Crocetta dimentichi di sanare il territorio che subirà lo smantellamento e mancanza di fondi. Sono trascorsi cinque anni da quando le ruspe hanno preparato la superficie all'abbattimento. Con questa conferenza stampa intendiamo sensibilizzare la regione su un aspetto necessario e importante. Esiste e stiamo contenti che si avvii la demolizione dell'inceneritore, che ancora deve partire, ma abbiamo letto che partirà il 7 novembre, ma non si è parlato e non si parla ancora di bonifica delle aree, cioè l'appalto in corso è solo per la demolizione del manufatto, ma occorre bonificare la parte sottostante. Quindi serve uno scatto in avanti su questo punto, perché noi sappiamo bene che non basta demolire l'inceneritore per riqualificare la zona, ma se non si passa che bonifiche, la zona non potrà essere utilizzata. Quindi non abbiamo 10 anni, 15 anni di tempo per attendere che si avvino nuovi iter amministrativi. Quindi chi ha l'onore e l'onore di governare la regione deve accelerare su questo punto. E sappiamo bene che non bastano i 400 mila euro stanziati per l'inceneritore, ma ne servono molti di più, li trovino, perché la città ha bisogno di riqualificare la zona falcata.